Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Mirta Merlino, sbarcherà tra pochissimi giorni nelle reti Mediaset nel famoso salotto di Barbara D'Urso Nelle scorse ore, si è lasciata andare ad una dichiarazione davvero sconvolgente che ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo cosa ha rivelato Chi è Mirta Merlino? La nuova conduttrice di Pomeriggio 5 Negli ultimi giorni gli occhi sono tutti puntati su Mirta Merlino La donna che ufficialmente prenderà il posto di Barbara D'Urso nella conduzione di Pomeriggio 5 La storica trasmissione di Canale 5 Classe 1968 nata il 3 maggio a Napoli sotto il segno zodiacale del Toro Lei è figlia di Giuseppe Merlino e Anna Maria Palermo, famosa sinologa e professoressa universitaria Mirta Merlino è una figura importante del mondo del giornalismo italiano, ma prima di intraprendere questa strada, ha mosso i primi passi nel settore economico-finanziario Ha lavorato anche con il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea Dopo questa esperienza ha lavorato come giornalista in quotidiani italiani di grandi successo, come Il Mattino Successivamente, si è fatta strada nel mondo della televisione italiana in trasmissioni come La storia Siamo Noi, Mixer, Italia Maastricht, Casa Rai 1, e tanti altri programmi dedicati all'economia Ma la vera popolarità arriva nel 2009 quando Mirta Merlino lascia la Rai, ed entra in la 7, dove conduce, l'aria che tira La conduttrice è stata spesso sotto i riflettori a causa della sua vita privata, infatti, ha fatto molto discutere la sua storia sentimentale con il calciatore e allenatore, Marco Tardelli I due, sono fidanzati dal 2016 e dalle loro parole rilasciate in alcune interviste, si avverte il loro grande amore Della vita privata della conduttrice, sappiamo che ha tre figli, nati da dei precedenti legami, Caterina e i gemelli Pietro e Giulio Ora a far discutere molto il pubblico, sono le sue ultime dichiarazioni rilasciate al famoso settimanale di Alfonso Signorini, chi Dove ha parlato della sua nuova e prossima avventura televisiva Ha lasciato tutti a bocca aperta Scopriamo di più Prima di partire con Pomeriggio 5, Mirta Merlino si è concessa una vacanza a Pantelleria con il compagno Marco Tardelli Ma nelle scorse ore, la conduttrice ha parlato del suo nuovo impegno lavorativo su Canale 5, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi La giornalista dovrà sfidare il suo grande amico Alberto Matano con la vita in diretta su Rai 1 Tra i due non c'è rivalità, infatti, ha rivelato di averlo incontrato per puro caso e il conduttore gli ha anche dato delle preziose dritte professionali Nel corso dell'intervista, Mirta Merlino ha anche fatto una dichiarazione a sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta In particolare, ha rivelato il suo pensiero sulla sua collega Barbara D'Urso Siamo due donne diverse e con percorsi professionali molto differenti Barbara è una grandissima professionista Fai affatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare Non c'è dualismo. Né tantomeno rivalità. È semplicemente cambiata la linea editoriale della rete Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta verità, spero rimanga Dopo aver preso il posto di Barbara D'Urso, si vocifera che i rapporti tra le due conduttrici non siano dei migliori Eppure a sorpresa, Mirta Merlino ha speso delle bellissime parole nei confronti della sua ex collega Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video Premi il pulsante mi piace e commenta Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale